oh mamma mia a me viene da ridere veramente cioè mi viene da ridere mi viene da ridere ma io mi chiedo ma quanta fortuna ha il nostro allenatore quanta fortuna ha quanta cioè a me mi verrebbe da dire beato lui ma in fondo in fondo mi viene da ridere perché quanta fortuna ha il nostro allenatore abbiamo vinto anche questa fortuna l'ennesima partita vinta a fortuna per botta veramente una cosa inguardabile ennesima partita ignobile della nostra stagione ennesima partita io ho visto fino al 52esimo io ho cambiato quando bremer e de sciglio sulla destra a mezzo metro uno dall'altro bremer sbaglia il passaggio a de sciglio palla in fallo laterale io mi chiedo io fossi stato allegri uno sarei entrato in campo dalla rabbia secondo è mai possibile che in serie a e per di più alla juventus si sbagliano queste cose io una domanda me la farei comunque una juventus che ecco io vedo visto tutto il primo tempo e l'inizio del secondo io nel toto serie a avevo detto questa è una partita che la juventus secondo me vincerà di rifo di raffa infatti l'ha vinta l'ennesima botta di fortuna con un gol di rabbiu lì è stato bravo de sciglio poi palla che sul rimpallo è finita di maria che ha rimesso in mezzo per per la testa di di rabbiu palla che era entrata di tanto e così infatti la goal line technology ha confermato quella che è arrivata intorno al che cos'era al 35esimo 40esimo adesso non ricordo con esattezza un gol che a parte quello a parte quello un pochino di più hai continuato a giocare hai fatto il gol di vlaovic che t'hanno annullato sempre con sto fuorigioco semi semi automatico e ci vogliono sempre 40 anni proprio per vedere se il gol è regolare o meno quindi semi automatico molto tra virgolette un gol che era molto carino perché vabbè era scaturito da insomma da una giocata di locatelli palla nella profondità per vlaovic che per l'ennesima volta si conferma un attaccante che se tu gli dai la palla in profondità può fare veramente veramente male infatti kostic ha dato la palla in profondità e abbiamo segnato poi purtroppo il gol non è stato valido però l'idea era molto buona a farle più spesso queste cose una juventus compatta una juventus sempre molto rinunciataria una juventus che non gioca pallone imprecisa che che sembra che non si sono mai allenati insieme queste sono quattro anni che da quando c'è il canale che dico sta cosa sono passati gli allenatori passati giocatori io continuo sempre a dire che la juventus c'è un problema forte per quanto riguarda la l'intesa e sembra che veramente non si sono mai allenati perché è una squadra che non ci si trova in campo una squadra molto scollegata il centrocampo staccato tante volte l'attacco che tante volte in fase di non possesso dovrebbe fare il primo filtro tante volte sta fermo ma anche il centrocampo non è che tante volte fa il suo perché centrocampo a meno che non arriva proprio tra centrocampo e difesa quindi è l'ultima spiaggia allora lì forse cominciamo un pochino ad allertarci se no mica ci muoviamo noi stiamo fermi lì belli belli ci abbiamo avuto due occasioni con ken che è entrato e qui voglio un attimo soffermarmi al posto di vlaovic allora tutti sti palloni a vlaovic non sono arrivati quindi in un modo o nell'altro allora due sole cose o cambia il modo di giocare quando entra ken oppure ken si propone di più fa qualcosa io non lo so perché tutte le volte che entra ken c'è al minimo due tre occasioni in 20 25 minuti c'è sempre le sue due tre occasioni poi una volta ha tirato un faccio al portiere un'altra volta si è mangiato il gol a porta vuota con la lazio con la lazio ha preferito lasciar passare invece di metterla dentro un attaccante che abbiamo capito che non è una prima punta non è un cecchino e anche stasera ne abbiamo avuto la conferma per carità ci mette la voglia la grinta un altro spacca partite simile a morata però è uno che proprio proprio il killer instinct proprio non sa manco che cos'è non sa neanche dove sta di casa ken quindi mi chiedo perché a vlaovic non arrivano sti palloni e con ken sì non lo so magari per mille motivi ti è andata di lusso anche stasera ti è andata di lusso anche stasera perché tu ovviamente progressivamente ti sei abbassato togli chiesa che stasera si è visto poco e niente togli di maria che il suo l'ha fatto mi metti fagioli mi metti paredes ragazzi come come si fa fa giocare ancora paredes perché facciamo gioco tutte le volte che gioca paredes agli avversari gli stende il tappeto rossi dice passate prego non è che fa un minimo di filtro di diga dice no passate benvenuti benvenuti nella nella zona offensiva della juventus vai passate così fa paredes tutte le volte e infatti stasera hai ripreso gol ringraziando che un'altra volta il fuorigioco semiautomatico te l'ha annullato perché se no di poco ma era fuorigioco semiautomatico ripeto solo de nome perché sono voluti 4 minuti per capire se era fuorigioco o meno è che ragneri e collocatelli si contendevano il pallone però ragneri in fuorigioco poi per quando la palla arrivata a castrovilli lui ha segnato state castrovilli erano miliardi di anni che non segnava è tornato al gol proprio con noi stasera a parte questo una partita è stata soprattutto all'inizio abbastanza nervosa una partita che io dico la fiorentina quest'anno è poco e niente l'ho detto anche ieri nel toseria la fiorentina quest'anno rispetto all'anno scorso è poco e niente non si riconosce neanche la fiorentina quest'anno è una squadra che non è aggressiva come l'altro anno gioca un pochino diversamente ma in peggio rispetto all'altro anno è una squadra che tu potevi tranquillamente battere anche all'andata il problema è che tu all'andata non hai giocato per niente anche dopo l'1-1 tu non hai giocato per niente stasera hai giocato pochino all'inizio Vlaovic se porca miseria non si fermava lì quando Milenkovic è scivolato forse e Kostic si è mangiato un'altra occasione nel primo tempo plateale se no due tre gol li potevamo fare tranquillamente tu giocando anche stasera non avresti fatti 3-4 alla fiorentina perché la fiorentina è questo non è quella dell'altro anno che gioca veloce a calcio fa organizzati è una squadretta normale cioè una squadra come tutte le altre una squadra che gioca a pallone ma non fa niente di che e tu se sei poco poco più forte stasera se giochi poco poco a pallone visto che tu sono un pochino più forti rispetto a quelli della fiorentina stasera 4-3-4 gol li avresti fatti in scioltezza proprio a mani chiuse li avresti fatte invece no tu sei andato ti sei rimesso dietro ovviamente come sempre hai preso l'1-1 per fortuna tua come sempre più come direbbe proprio il nostro allenatore ce l'hanno annullato ce l'hanno annullato e come sempre tu quegli ultimi cinque minuti hai continuato a difenderti a difenderti a difenderti la fiorentina nel secondo tempo ha avuto un paio d'occasioni anche lì e basta cioè è quello che a me dà fastidio che tu contro soprattutto queste squadre qui che non è che hanno sto grande gioco giocano a calcio sì ma non è che abbiano tutto sto grande gioco tu non fai nulla tu stai fermo fai un gol e ti chiudi a me questo che mi fa rabbia poi soprattutto quando vedi i giocatori che sbagli nel passaggio a mezzo metro in serie a la juventus ti viene proprio l'istinto di prendere il telecomando e di cambiare canale perché c'è una cosa del genere non stata nessuna parte non sta proprio su nessun pianeta non sta una cosa del genere neanche in terza categoria se vede una cosa simile io veramente non non mi capacito veramente di certe cose è più forte di me mi viene proprio l'istinto di prendere e cambia canale perché questo uno dovrebbe fare vabbè ci ha ridetto bene anche stasera che hanno annullato il gol a castrovilli se no era uno a uno una partita dove tu hai rifatto schifo un'altra volta dove la squadra sì che era chiusa però a differenza di salerno c'avevi solo vlaovic e non c'avevi di maria che faceva dare accordo di maria si vedeva che stava proprio molto più indietro rispetto a salerno non faceva dare accordo tra vlaovic e il pacchetto centrocampo difesa una juventus che ha giocato rinunciataria che non ha avuto moltissime occasioni sì ha avuto sì comunque non ha avuto largo numero di occasioni come le ha avute a salerno comunque hai segnato tre gol ma ce ne hai avute altre tre quattro stasera ce ne hai avute quattro in tutta la partita una l'ha messa dentro altre due tre te le sei mangiate clamorosamente stasera potevi farne tranquillamente altri due tre come come a salerno però ecco invece di continuare a battere il ferro finché è caldo il nostro allenatore preferisce fare i cambi per difendersi e ho detto tutto questo è il quanto e noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi buona serata e fino alla fine sempre forza juve